San Michele Arcangelo a Manuela Strzok Pochi mesi e un momento difficile verrà nel mondo In questo messaggio San Michele Arcangelo rivolge un avvertimento ai suoi discepoli di un momento difficile che verrà sulla Terra. Questo messaggio è importante per tutti, credenti e non credenti, perché ci invita a riflettere sul nostro modo di vivere e sul nostro rapporto con Dio. San Michele Arcangelo inizia il suo messaggio benedicendo i suoi discepoli e tutti coloro che aprono veramente il loro cuore. Questa benedizione ci ricorda che Dio è sempre con noi, anche nei momenti più difficili. Poi egli avverte i suoi discepoli di un momento difficile che verrà. Leggiamo il messaggio Sono venuto a voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le benedizioni del Padre Celeste, le benedizioni del Figlio mio Signore e dello Spirito Santo scendono su questo luogo e su tutti coloro che aprono veramente il loro cuore. Un momento difficile verrà su di voi. Non abbiate paura. Non c'è mai stato un tempo come questo sulla Terra. Il male entra nel cuore degli uomini, non guardano al Signore, fissano lo sguardo su se stessi e vogliono ottenere il loro vantaggio. Se il Signore non intervenisse, gli uomini si distruggerebbero da soli. Ci sarà una guerra per il raccolto. Rimanete fedeli alla fede dei vostri Padri di fede. La preghiera del Rosario, il mio onore e tutti gli angeli pregano. Ogni preghiera in Lui è un battito d'ali da parte mia. Le benedizioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siano su di voi e vi accompagnino sempre. Grazie a tutti.